Salve a tutti, sono Antonio Izzi ed eccoci ad una nuova videopillola di Mindset. Prima di cominciare vi chiedo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale in modo da non perdere i prossimi contenuti. Uno degli elementi basilari per essere un punt trader è sicuramente la passione. In ogni cosa della vita, come nel trading, se quello che facciamo non ci piace, non ci accende, è un po' difficile che lo possiamo fare al meglio. Infatti se ci pensiamo, sin dai tempi della scuola, le materie in cui riuscivamo meglio erano proprio quelle che ci piacevano, che avevano il nostro interesse. Mentre nelle materie che ci erano meno simpatiche, diciamo così, non riuscivamo, comunque facevamo abbastanza fatica proprio perché non avevamo quel fuoco, quella passione per quel tipo di materia. Quindi essere appassionati sicuramente è una cosa fondamentale quando noi iniziamo un nuovo percorso, una nuova strada o una nuova attività e quindi la passione che noi nutriamo per quel settore, per quella cosa è fondamentale. Ma in realtà anche nel proseguo, se ci pensiamo, è altrettanto importante perché quando iniziamo a fare qualcosa da un po' di tempo, diciamo che se perdiamo la passione, spesso alla fine non la continuiamo a fare bene e probabilmente la abbandoneremo anche. C'è però da dire che troppa passione o se c'è solo passione e non c'è anche razionalità e quindi non c'è applicazione, metodo e tutto il resto, sarà un po' difficile che si potranno raggiungere i risultati. Anzi, l'eccessiva passione spesso ci offusca il nostro giudizio e la nostra valutazione su quello che è il nostro percorso. Noi dobbiamo sempre essere ben equilibrati, tenere accesa la passione sì, ma avere sempre il metro di quello che stiamo facendo per capire cosa aggiustare in modo che possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Quindi il consiglio qual è? È quello di fare ciò che ci appassiona e di essere pronti a cogliere le opportunità che ci capitano. Ma in realtà spesso per cogliere le opportunità dobbiamo uscire dagli schemi, dobbiamo rompere gli schemi e non dobbiamo avere paura di farlo. Anzi, sono proprio la nostra unicità, la nostra passione che faranno risplendere la nostra luce. Viviamo in un mondo che cerca sempre più di omologarci, che crea degli stereotipi e noi spesso per seguirli non facciamo altro che essere infelici e trovarci sempre mancanti. Se vogliamo essere liberi, se vogliamo essere felici non dobbiamo avere paura quindi di rompere lo schema, di liberarci da esso. Per essere felici l'obiettivo di ognuno di noi dovrebbe essere quello di vivere liberi e scevri dai condizionamenti che ci vengono dall'esterno. E questo ci permetterà di continuare ad essere appassionati in quello che facciamo. Bene, siamo alla fine di questa brevissima pillola che oggi ho voluto dedicare a uno degli elementi più importanti che riguarda l'essere umano in genere, non solo i trader. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!